Sabato 22 maggio, Santa Rita da Cascia. È il 142esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 223 al termine. Il sole sorge alle 5.33 e tramonta alle 20.42. La luna sorge alle 15.39 e tramonta alle 3.38. Al primo scrutinio viene acclamato d'oggi Giovanni II Korner. Il suo sarà un dogado sfortunato, cominciato in piena pace ma terminato con la guerra contro i turchi. Le previsioni per domani. Tempo variabile, con cerno in prevalenza molto nuvoloso su zone montane e pene montane. In pianura schiarite e anche ampie si alterneranno nuvolosità irregolare a tratti consistente. Precipitazioni. Da metà mattina aumento della probabilità fino a medio alta di precipitazioni anche a carattere di lovescio o d'occasionale temporale. A partire dalle zone montane in estensione alla pianura settentrionale nel corso del pomeriggio. Fenomeni meno probabili o del tutto assenti sui settori centro-meridionali. Generalmente assenti sulla costa. Il limite della neve è intorno a 2.000-2.400 metri. Temperature senza notevoli variazioni.